Siamo alla vigilia di un'altra campagna agraria, che cosa si prevede, quali sono le previsioni? Come dice anche mio padre, in questo momento il grano è erba, quindi parlare di previsioni anche di mercato. Il mercato al momento del grano è abbastanza stazionario e fermo. Per quanto riguarda invece la parte orticola, credo che assisteremo ad un trapianto di pomodoro selvaggio, perché la diga è piena, quindi credo che anzi sarebbe quasi da esortare i nostri produttori a non esagerare con la coltivazione del pomodoro. Si parla sempre di più di agricoltura innovativa, su cosa punterà Confagricoltura Foggia? Ma è nel DNA delle aziende di Confagricoltura Foggia. Confagricoltura Foggia è la più grande organizzazione agricola della Capitanata, rappresenta le più importanti aziende agricole di Capitanata e lo stiamo dimostrando anche con il livello di formazione che stiamo offrendo alle aziende con corsi ormai da diversi anni di agricoltura di precisione, ma totalmente agricoltura 4.0.